Voglio tornare sulla notizia dell'assalto che il gruppo di anarchici hanno fatto a Torino alla volante della polizia. Per quale motivo questi anarchici hanno avuto questo, hanno compiuto questo atto, questo gesto di violenza? Perché volevano salvare una persona che in quel momento si trovava all'interno della macchina o comunque all'interno della caserma della polizia. Stiamo parlando di un marocchino con alle spalle ben tredici condanne di cui nove passate in giudicato e una di queste era anche riferita a uno stupro di gruppo. Quindi insomma non è che si stia parlando di un vero e proprio eroe, però questo gruppo di anarchici lo voleva liberare. Insomma vuole che una persona con tredici condanne alle spalle e voglio dire con dei reati, non dei reati minori mi sembra di aver capito, fosse libero di circolare sul nostro territorio. Evidentemente a questi anarchici la legalità è proprio un elemento totalmente sconosciuto. Però ciò che fa riflettere è il silenzio, il silenzio mediatico che c'è intorno a questa vicenda, ovvero c'è una sproporzione tra la violenza quando viene esercitata da parte delle forze dell'ordine su delle persone, in questo caso sui manifestanti nelle piazze, che dobbiamo ancora ovviamente chiarire. Le telecamere hanno restituito dei filmati che sono in questo momento al baglio della procura per stabilire come oggettivamente siano andate le dinamiche, perché è troppo semplice farsi un'idea rispetto a quello che viene detto o a dei piccoli frame che vengono chiaramente trasmessi. Perché io non voglio, ripeto, io non giustifico mai la violenza, però rifletto su questo. Se tu mi fai vedere semplicemente il frame della manganellata, chiaramente l'opinione pubblica che cosa, che idea si fa? Si fa guarda la gente violento che manganella una persona. Dall'altro lato è se tu mi fai vedere il motivo per il quale è stata data la manganellata, allora forse potrò sostenere la stessa cosa, che è stato un atto di forza sproporzionato come reazione, però magari potrei anche dire il contrario rispetto a quello che è stato fatto sugli agenti. Ma detto questo, e ripeto, non sta a noi giudicare se abbiano avuto ragione o torto e quindi su questo si valuterà e ci saranno insomma le persone competenti per farlo. Però il silenzio mediatico, l'indignazione, allora ricordiamo che dall'assalto di Torino, da parte di questi anarchici, ricordiamo che sono state fermate cinque donne, cinque donne che facevano proprio parte dei movimenti anarchici torinesi e altri dieci invece sono in questo momento, insomma, stanno capendo come hanno gestito il tutto e quindi vedremo che provvedimenti verranno presi nei loro confronti. Beh, da questo assalto ci sono stati tre agenti della polizia feriti. Di questi tre agenti uno ha avuto una prognosi di 15 giorni, quindi immagino insomma che non gli sia stato fatto un graffio. Allora mi chiedo, ma per quale motivo questo atto di violenza non ha suscitato la stessa indignazione, gli stessi cori di solidarietà che hanno invece ricevuto quegli studenti in piazza, che hanno preso le manganellate dagli agenti, dalle forze dell'ordine? Cioè mi chiedo, la violenza è un gesto che va condannato sempre e comunque a prescindere da quale parte venga esercitato? Oppure è un esercizio a fase alterna e tale per cui se è l'agente ad essere colpito allora tutto sommato è un atto dovuto? Allora torniamo alle parole della consigliera della Toscana 5 Stelle che ha detto in fin dei conti gli sputi se li sono anche meritati, quindi in fin dei conti voglio dire le forze dell'ordine fanno questo lavoro e devono mettere in conto che possono anche essere colpiti, massacrati e avere delle prognosi riservate di 15 giorni. Io sinceramente a questa narrazione non ci sto ma continuo a mostrarci perché quando io dico che condanno la violenza in qualunque modo, to court, senza diciamo distinzione, io la condanno da una parte e dall'altra e sinceramente vedere, constatare questo silenzio comunque che non abbia suscitato il minimo sdegno, la minima solidarietà, questo attacco nei confronti dei poliziotti, beh sinceramente me la fa capire lunga su quanto ci sia ormai una posizione quasi da tifo da stadio, gli schieramenti uno contro l'altro, chi è con le forze dell'ordine e chi non lo è. E questo mi sembra estremamente assurdo anche perché le forze dell'ordine quando devono intervenire per garantire la nostra sicurezza non fanno distinzione di chi vanno a salvare, vanno a salvare tutti, anche coloro i quali li sputano in faccia, coloro i quali gli tirano i calci e coloro i quali li mandano all'ospedale con 15 giorni di prognosi. Quindi diciamo che quello che sta accadendo mostra perfettamente lo specchio di quello che è l'atteggiamento o comunque anche l'atteggiamento di astio che si vuole alimentare nei confronti delle forze dell'ordine e questo è estremamente pericoloso, tant'è che la stessa Giorgia Meloni ha detto attenzione a depotenziare quello che può essere il rispetto nei confronti delle nostre forze dell'ordine perché questo genera un cortocircuito estremamente pericoloso tale per cui quando poi si scende nelle piazze o comunque si pensa di assalire le forze dell'ordine è come se ci si sentisse protetti da qualcuno che li sostiene in questo gesto e questo assolutamente in un paese civile credo non dovrebbe capitare.